Salve, vi voglio invitare stamattina a visitare in un tour virtuale la riserva del Serengeti in Africa. Io da quando ho iniziato a preparare questa presentazione mi è venuta voglia di partire, ho iniziato a mettere soldi da parte, quando l'ho detto a mia moglie è saltata in aria. Bene, la caratteristica di questa riserva, un'enorme prateria, savane, 14 mila chilometri quadrati, dove pascolano in branchi numerosi, un milione e mezzo di gnù, 500 mila gazzelle, 300 mila zebbre, più enorme mandre di elefanti, giraffe e molte altre specie di erbivori. Appunto sono accomunati dal vivere in numerosi branchi che in occasione delle grandi migrazioni convergono a formare dei miei garabbranchi. Non sono solo milioni di individui, io li vedo anche come milioni e milioni di chili che vengono a creare un impatto attraverso i loro zoccoli sul terreno. Attraverso i loro zoccoli iniziano a rompere la crossa del terreno, permettono di migliorare l'infiltrazione dell'acqua piovana, mettono a contatto il seme con il terreno nel modo ottimale e questo permette di germinare correttamente. Inoltre, dall'azione dei loro zoccoli, emerge la possibilità di interrare lo sterco e le urine derivanti da questo processo di compostaggio che avviene nel lumine. Ma il fatto di vivere in branchi, come voi potete immaginare, non è così spontaneo. È per proteggersi dai predatori, ovvero sono i predatori che per effetto della loro presenza influenzano direttamente il comportamento degli erbivori. Stare in branco significa essere numerosi, sfruttare il numero per poter ridurre il rischio di essere predati singolarmente. Mentre quando il cacciatore, il predatore, riesce ad isolare e uccidere uno degli individui, sta mettendo una selezione genetica a favore degli individui più forti e più adattati. Non solo, quando attacca induce gli animali a spostarsi. E questo è fondamentale per la sopravvivenza delle praterie, perché permette alle erbe di non essere completamente pascolate, di dare il tempo di rigenerarsi, non vengono stressate. Non solo, siccome sempre per paura di essere attaccati dai predatori non possono scegliere, non hanno il lusso di scegliere le erbe più buone da quelle meno buone. Perché quando stanno pascolando abbassano la tessa e diventano delle prede molto... sono in una posizione molto sensibile e sono delle facili prede. E quindi devono per forza mangiare quello che trovano immediatamente. E questo è un altro fattore importante, perché il pascolare in modo non selettivo garantisce e dà l'opportunità a tutte le essenze erbace di crescere ugualmente. La coevoluzione delle praterie, degli erbivori e dei carnivori è così forte che è la caratteristica fondamentale di tutti gli ecosistemi naturali. Anche l'uomo faceva parte di questo ecosistema naturale perché era cacciatore, però poi ha deciso di saper fare meglio della natura. In altre situazioni, come per esempio in Nord America, ha sterminato i bisonti per introdurre gli allevamenti di vacche e le grandi praterie sono state trasformate in campi da lavorare per le culture annuali. Poi questa cosa si è evoluta fino ad arrivare all'epoca post-guerra con l'introduzione di enorme macchine che permettessero di fare i lavori del terreno più velocemente. Gli animali sono sempre stati messi da parte dell'attività agricola e l'etame, che era il principe dei fertilizzanti, è stato sostituito dai fertilizzanti chimici, dai coincimi chimici. Poi chi è continuato ad allevare, ha deciso che poteva pure fare a meno di lasciare gli animali a pascolare e li ha portati nelle strutture che sono le stalle, dove ha iniziato a introdurre sempre più innovazione, sempre più tecnologie, sempre più costi. E questo cosa ha portato oggi, forse in modo anche non consapevole ed è testimoniato dalla stampa, è alla crisi. Già negli ultimi dieci anni vengono dimezzate il numero di stalle, hanno difficoltà e ogni minima variazione del prezzo di mercato dell'atto, della carne, sono sempre più numerosi gli stabilimenti che chiudono. E ha alimentato anche notevoli dibattiti a livello internazionale su quello che è l'impatto sull'ambiente o di tipo etico devuto a questa forma di allevamento. E in che direzione si sta andando? Beh, ci continuiamo ad allontanare dalla natura, selezionando animali sempre più produttivi o sempre più belli e quindi passiamo dalla selezione dell'animale più adatto e più forte alla selezione dell'animale più bello. Oppure andiamo sempre di più a innovare, a rendere più tecnologiche le stalle fino a renderle robotizzate. Beh, chi invece ha deciso di allevare in modo naturale, che cosa fa? Lascia gli animali liberi e nel tempo si è formata questa idea di animali liberi, felici, che hanno tutta l'erba a disposizione per pascolare. Ma è davvero così, romantica la realtà? No. Di fatto quello che succede, un po' questa è la situazione un po' generica dei nostri allevamenti, l'animale libero di pascolare inizia a scegliere le piante più buone da mangiare, scarta le altre che con il tempo l'ignificheranno, andranno a seme e prenderanno il sopravvento rispetto a quelle buone. Gli animali avranno sempre più difficoltà a trovare delle essenze buone da mangiare perché più volte vengono pascolate mentre crescono fino ad eliminarle completamente. Inizieranno a comparire piante spinose, inizieranno a comparire piante velenose, rovi e questo determinerà che a un certo punto non si potrà più andare in determinate aree del pascolo perché i cespugli spinosi sono così fitti che non permettono agli animali di entrare. Oppure il terreno è talmente reso libero e sterile che non cresce più nulla, lasciato oggetto di fenomeni erosivi, compaiono le pietre fino alla completa desertificazione. Gli animali sono sempre più indeboliti, diventano suscettibili agli attacchi parassitari. L'allavatore allora che deve fare? Riduce il numero degli animali, cerca nuovi pascoli, deve spendere soldi per i mangimi per far stare bene gli animali, deve spendere soldi per vermifughe e antibiotici che vanno a intaccare la salute del suolo. Allora io mi chiedo se ci sono dei sistemi diversi per poter coniugare profitto e sostenibilità. È già stato messo a punto un modello di produzione zootecnico che sposa produttività e cure dell'ambiente, redditibilità e sostenibilità. Un modello che si basa sui principi della natura e si adotta riesce a curarsi, adattarsi al modello produttivo aziendale comunque di produzione. Ad oggi sono migliaia di produttori in tutte le parti del mondo che hanno avviato questo modello di produzione naturale. Ed è oggi l'unico modo per noi di andare avanti, di avere un futuro, di svolgere il nostro ruolo di predatore e di co-creatore, di curator del territorio e del futuro di questo pianeta. Sono stati grandi cambiamenti negli ultimi 60-70 anni nel mondo di produzione e per fortuna è stato ammesso a punto un modello completo di produzione che si basa sul modello della natura, che si chiama l'allevamento rigenerativo. Ci sono dei principi chiavi che Gasper ha già illustrato, che sono quelli della natura. Il pascolamento ad alta densità, il quale porta gli animali a consumare tutta l'erba, che nel tempo permette di produrre più foraggio e dunque di avere più animali, per le aziende di essere più produttive e di guadagnare di più, di rimanere in produzione. Questo si fa oggi con l'utilizzo di recensioni elettriche. L'impatto dopo un passaggio di animali è esattamente quello che avviene nel Serengeti, un impatto molto forte per breve tempo con lungo tempo di riposo, che può andare da settimana a mesi o anche anni, dipendente dal clima, dalla stagione, dell'impatto che vogliamo avere, quale essenze vogliamo fare ricrescere. Dunque, alta concentrazione di letame, di urine e questo porta a maggiore produttività, anche se sembra andare a contrario di quello che pensiamo, di ridurre il numero di animali per far produrre di più il terreno. Invece la natura, come nel Serengeti, ci dimostra quanto è importante un grande impatto sul territorio. Non possono più migrare gli animali, dunque dobbiamo adattarsi al fatto che siamo in contesti produttivi e dunque è importante supplementare non con fieno grande quantità di mangime, ma aiutare l'animale a digerire meglio il foraggio anche quando è secco, anche quando è povero su terreni degradati. Dunque, tutti questi sono delle pratiche che consentono di imitare i processi naturali e comunque mantenere produzione. È quello che permette di avere animali di buona qualità, quello che permette di sostenere il corpo a diventare forte, quello che permette a grande estensione di territorio a non diventare deserti. Come nella natura i parti devono avvenire in primavera, le rondine quando fanno le uove in primavera, come i bovini devono farlo quando l'erba cresce invece di farlo in autunno quando dobbiamo dargli sostegno proteico, minerale, tanto foraggio a grande costo. Gli animali che devono essere selezionati come nella natura, come il lupo, come l'orso, come il leone, dobbiamo sviluppare una selezione basata sui criteri della natura. Gli animali che sono di conseguenza sviluppati sembrano più ipopotami che bovini, sono delle masse gigante, hanno una grande capacità di rumine. Perché mangiano erba? Tutto questo è normale. Allora, per quanto può sembrare molto evidente e semplice, sono veramente pochi a livello mondiale, sono centinaia di produttori. Dovrebbe essere tutti i produttori. In Italia, ancora di meno, si possono contare sulle dita della mano quanti produttori utilizzano queste pratiche. In Sicilia, figuriamoci, per fortuna abbiamo un caro amico nostro, allevatore di Nicosia, che si chiama Mario Lopresti, che ha deciso di seguirci in questa avventura e mettere in atto queste pratiche. E questo è l'effetto. Uno, prima di tutto, è bellissimo. È un'armonia con la natura che si vede troppo poco spesso. Dunque, lui sta mettendo insieme queste buone pratiche e sta gestendo gli animali come avviene nei Serengeti ad alta densità. Sta facendo selezione genetica, sta riducendo i costi di fieno e di mangime, utilizzando il secco che c'è d'estate e le supplementazioni proteiche. E veramente, siamo nel momento in cui possiamo fare scelte, perché c'è tanto veganismo, c'è tanto di rifiuto della carne, rifiuto del mondo animale, che ha il suo perché. Però esiste questo altro modello di proiezione e sta a noi di metterlo in atto, sta a noi di assumere la nostra posizione, il nostro dovercio, questo pianeta, di curare il territorio. Nonostante ci sia il modello, ci sia chi già fa ad esempio, un po' a livello internazionale e qualche esempio pure a livello nazionale, che segue questi sistemi di gestione, nonostante è dimostrato che è possibile ottenere un profitto in modo sostenibile, anzi migliorando pure il territorio, l'ambiente, nonostante ciò quello che rimane, il vero fattore limitante è proprio l'uomo. Cioè è lui che ha la facoltà di applicare qualcosa che è di dimostrato, semplice e immediato, oppure continuare sulla strada che sta ancora percorrendo e di cui già sappiamo qual è la fine. Noi abbiamo avuto questa possibilità, questa esperienza, vi ringraziamo infinitamente della vostra attenzione. Grazie.